In completa e totale onestà, non so quanta fortuna possa avere una persona nella propria vita, ma quant'è andata di culo a One è qualcosa da tramandare ai posteri. Fermo restando che sia un fra che si diverte a disegnare le cose sull'internet e soprassedendo al celebrimo One Punch Man che glielo riprende tra tutti Murata, non penso sarebbe mai potuto andare meglio con Mob Psycho 100 raccolto dal Bones, diventandone tra le cose uno dei progetti consistentemente preferiti in assoluto. Con Hop Man poi da anni c'è questa specie di rivalità senza senso di sì ma Mob è meglio, no ma One Punch Man, che tra le cose fu pure il mio primissimo approccio al venire e a conoscenza che esistesse Mob Psycho 100. Capisco che essendo due opere dello stesso autore venga molto facile fare questi paragoni, il fatto è che per quanto la premessa sia simile, comunque sono un po' le due facce della stessa moneta, non la togliendo a One Punch che oltre ad aver dato effettivamente lustro al filone azione con gli stronzi in calzamaglia da Bon Seinen, rimane anche la cosa migliore mai accaduta alla comunità dei pelati, ma non è la 5000 cui mossa che può sembrare, soprattutto quando di fondo sono opere così tanto diverse, poi finisce che mi debbo alterare nel senso è stupido perché questo va a distrarre dal fattore chiave del cartone di Mob, ovvero il livello di cura e passione che lo studio è riuscito a trasmettere in queste tre serie, rendendo l'intero progetto forse uno dei pinnacoli assoluti dell'animazione contemporanea tutta senza esagerare. Conseguenza per direttissima di aver coinvolto un putpurri di professionisti del settore che chiamarli colonne portanti sarebbe un eufemismo. Mob Psycho 100 racconta di Shigeo Kageyama, da non confondere con Tobio che quell'altra sconella sta a fa pallavolo. Questo Kageyama dà il nome alla serie col soprannome Mob, cosa che ha portato a una delle memas più aree del periodo manifestazione del 2020, con l'avvalorare il detto che le mele non cadono mai lontano dagli altri, ma sto divagando. Mob è un ragazzino delle medie che non soltanto è un esper dai poteri psichici formidabili, ma pure il più dotato di sempre e per questa ragione si trova costretto a imbottigliare le proprie emozioni, onde evitare incidenti spiacevoli. Peggio che peggio perdere il controllo come gli accade da smandrapino, giustamente se sei lì lì per far saltare in aria il tuo paese un po' traumatizzato ci rimani. Cambierà la situazione, o meglio la vita, quando Mob incontrerà il suo maestro, nonché nostro Messia Regen Arataka, l'unico personaggio realmente mai importante nella storia, ma non dei cartoni, proprio figura storica che è stato in grado di alterare il corso degli eventi, con soltanto l'ausilio di sondaggi affrontando Sans Undertale. Il maestro, per quanto possa sembrarlo agli occhi di Mob, in realtà non è un esperto. Non sa utilizzare il potere psichico, non è in grado di fare mirabolanti esorcismi. Ma conosce la gentilezza, l'amicizia e l'amore. È in grado di vedere il mondo in un granello di sabbia, scontare il paradiso nella ruggiata del pitaro di un fiore di campo, sapendo tenere l'infinito nel palmo della mano e l'impermanenza dell'eternità nell'abilità di un secondo. Quando si entra in contatto con Regen c'è la delimitazione di un avanti Regen e un dopo Regen. E non è un caso che il cara design della serie si basi tutto iniziandolo a disegnare dal culo. L'incontro casuale, frainteso di mobino in cerca di aiuto, che sentiva di non avere un proprio posto nel mondo e Regen, che vedendo un'anima pia in difficoltà cerca comunque entro il massimo delle proprie capacità di aiutarlo, è, in superba sintesi, Mob Psycho 100. Il leitmotiv di fondo, infatti, è che di base esisti nel contesto in cui vivi ed è di fatto il filtro che applica la tua persona, che diventa poi la percezione esterna che si diflette in come ti vedono gli altri. Che magari è o non è come vorresti che ti si percepisse e questo crea un effetto domino. E questa è la società. Ma non è il senso di società ingrigito, rassegnato, dumer post, india, società individualista, nessuno debbe niente a nessuno, ma società collettivista, che attraverso il contatto mette luce in un caleidoscopio qual è l'identità di ognuno. Chiaro che senza l'incontro si vada a perdere tutto il significato di umanità, Cosa che Mob affronta, dovendo approcciarsi ogni volta alla propria emotività senza che però vada comprensibilmente perdendo anche il controllo. Quanto più proprio se stesso. Così come il resto del cast in una rocambolesca sequenza di avventure di ogni tipo, partendo da un culto, un'organizzazione di palloni gonfiati, un broccolo gigante e alieni. Tutto diramato a più riprese che si lega in un'unica uscita. Fare i conti con se stessi. Arriva un momento in cui la presa di coscienza del fatto che si esista diventa una realtà cui è impossibile sfuggire. Adesso, per metterla sul pessimista, diventa un peso soffocante con tanto di peggiorativo riguardo la percezione sia interna che esterna, plus il contesto in cui si vive. Ed è facile, è estremamente facile, deragliare nella falsa speranza in buona fede e falsa illusione in mala fede. Di avere un qualche tipo di privilegio, piedistallo, diventando magari anche un trono. Solo perché si possiede una qualche determinata capacità. È il discorso del filo d'erba di Zero Calcare. Un po' ci si avvicina alla filosofia di Mob. Per quanto comunque manchi il punto che, come disse un certo Vate, io lo so che si può diventare speciali. Perciò ci proverò. Ed è questa la magia che risplende in sé. La lezione di fondo che rende immortale Mob Psycho 100, che One è riuscito a carpire, cogliere, spiegare ed esternare in maniera perfetta. Perfetta che andrebbe studiata negli atenei universitari. Ovvero che nulla è più ispiratore del coraggio di riuscire a permettersi di diventare la persona migliore che si è in grado di essere. Sei stato un magnifico Mob Psycho 100. Avrò cura del tuo ricordo fin tanto che il mio corpo avrà respiro.